La solidarietà dei vicentini non vede né distanze né confini. Anche il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, con il supporto della Fondazione OTB e della Vicepresidente Arianna Alessi, sta raccogliendo fondi e beni di prima necessità per il popolo ucraino. Abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi con la Rete del Dono e stiamo organizzando dei pullman che partiranno lunedì mattina per il confine con la Polonia e per portare a casa le prime 100 persone. Saranno in tutto 200 i profughi, donne e bambini che saranno accolti dalla città. Siamo ora di subito disponibili per la partenza, già subito domani mattina. Noi partiremo praticamente con due autobus, quindi cinque autisti, e saliremo su verso il confine polacco, insomma verso il confine con l'Ucraina. Un vero ponte di solidarietà e umanità che fa onore ai vicentini. Io credo che mai, come in questo momento, sia importante che ciascuno faccia la sua parte, ma facendo rete. E come uno slogan che contraddistingue il volontariato insieme per fare la differenza, in questo momento è fondamentale unire le forze tutti insieme per un obiettivo comune.